Un negozio di articoli di abbigliamento di via Cavour è stato preso di mira da due rapinatori nella serata di domenica, i quali sono entrati all'interno dell'esercizio commerciale e utilizzando una pistola hanno intimato ai proprietari di origine cinese di consegnare loro l'incasso. Solo che i commercianti non si sono persi d'animo e hanno iniziato a chiedere aiuto, uscendo anche in strada per cercare di richiamare l'attenzione dei passanti e degli abitanti della zona. Vista l'inattesa reazione e temendo di essere beccati in flagrante, i due rapinatori se la sono data a gambe. Nel frattempo era stato chiamato il 112 e sul posto era arrivata una volante della polizia. Gli agenti stanno adesso indagando per rintracciare i responsabili. Da capire se nella zona siano presenti telecamere di sorveglianza che potrebbero avere registrato delle immagini, in modo da rendere più agevole l'identificazione dei due rapinatori.